Ciao, Nessi, ciao! Stiamo andando al sushi perché dopo una giornata di merda, proprio, abbiamo deciso... Invece di andare in palestra abbiamo deciso di venire al sushi. Di andare a mangiare. E poi che nessuno poteva venire, siamo andati sulle lei perché... Che ce ne frega, meglio sole che mi hanno accompagnato. Quindi, ragazze, quando vi sentite un po' giù, vi sentite un po' tristi, non vi abbattete, ma andate a farvi una bella magnata. Mangiate come porci. Quindi non ce ne fotte niente, nessuno. Stasera si strafoca, andiamo. All you can eat, ma noi possiamo eat very very much. Adesso faremo una sfida sushi. Andiamo. Chi mangerà più sushi? Andiamo. Chi mangerà più sushi? Cosa succederà? Quindi vabbè, ci dobbiamo sfacannare. Sì, ho un passagerato di blush, mi sa. Nezio, che ho combinato? Mi sembri Heidi. Vabbè, c'ho tanta fame, c'ho una pancia così affabata. Oh, Dio, ho paura. Vincerò. Oh, mamma, vincerò. Io vincerò. Io vincerò, io. Nezio, come sei carina. Fa vedere che fai. Cioè, il ristorante è pieno di dente. Fa la parte differente. Continuiamo? Ora sì, io voglio. Biri, sushi, cammone, orata e stile. Direi che prenderlo tutti e tre. Puoi riprendere come roll, sicuramente California, sake avocado, nigiri. Ma sono molto affabata. Adesso prenderò, dirò, uno di tutti. Scusate, devo portare uno di tutti? E poi ci lo prendiamo e li prendiamo gli udon, i cose qua, i noodles. Ma non lo so, perché la santa c'era l'uovo dentro. Poi questo fa buone anche gli spedini di salmone. Sono buoni. E qui io poi voglio questo. Guarda da me, suco. Le alghe sono buonissime. Dai, dai, ordiniamo che ho tanta fame. Yeah. Nensi, ma che shampoo è usato. Cioè, i capelli, tutti lucidi e voluminosi. Girate un po' di là. Girate un po' di là. Girate, girate di là colà. Che non è così. Eh, ci vedono tutti di questo. Sono belli. Cioè, la ragazza, le voglio dire, non posso dire, devo riprendere il torto. Comunque sti cosi, come sono brutti. Sono un po' fagioletti che si deve obblire le mani. Sì, perché noi non li prendiamo mai. La fare in bagno le mani, non è che voglio lavare questo. E giuralo che hai lavato le mani. Giuralo. No, ora vado in bagno e lavo le mani. Ma non li voglio sti cosi. Ma da chi? Cioè, tutte le volte stiamo andate a cucina. Non ti sei mai alzata per andare a lavare le mani. Non lo vado. Vai. Non lo vado, lo giuro. Sei una bizzata. Comunque sei monta per la sfida. Sì. Non c'ero io. Sai che perderai, eh? Non c'ero io. E cosa deve? Che abbiamo scommesso. Cioè, dobbiamo mangiare tutto. Fa nulla per sì. Se dobbiamo mangiare uno, la propria corruzione. Sì. Chi non la mangia tutta, appusca. E' bella? Dopo la corruzione, io ti ti vedo i capelli. Io ti vedo i capelli, io ti vedo i capelli, io ti vedo i capelli, allora. Noi, ti vedo. Sì, ti vedo i capelli. Sì, ti vedo i capelli. Sì, ti vedo i capelli. Mi tenete in mente la penitenza che dovrà fare il prossimo figlio. Sì, sono d'accordo. Allora facciamo così. O dobbiamo mangiare un po' la scuola. Sì, se non ce la fa, decidete voi la penitenza che deve fare il prossimo figlio. Dite a tutti di conoscenza. Qualsiasi cosa, eh? Qualsiasi, per esempio, dato che perderà il nostro curo, vi ritenete, dovrà fare questo. Dovrà uscire fuori al bacone e gridare, io sono cretita. Oppure io dovrò schiacciare un uovo in testa caduta. Un uovo in testa a mena. Guardate, dovete. Ci guardano strano. Ma che significa? La bottiglia. La bottiglia di apropiata. La bottiglia d'acqua. Ah, è arrivato. Tutti i nostri sashimi, la risqua e l'uva di pesce volante. Salmone, tutti i miei visi, l'ensia, il fame, i nostri preferiti. Sì, mangio tutto. Ho detto che vinto io. Ma che vinci? Nella sfida è ben inizio. Io che so, un po' di salsa piccante, perché non è piccante. Il mio preferito, il mio giro. Pum, 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 pum. Mia droga, il tabasco, salsa piccante. Ma come va a mangiare? Questo è piccante, questo pazza. Oddio. Ma non lo mangio più così. Oddio, guarda, c'è piccantissima quella salsa. Io l'aduro. Oddio. No, ma questo è un po'. Dammi, no. E' la sfida, scusa. Io ho mangiato già tutto, guardate, c'è chi è che sta vincendo e guarda lei. Sì, piano, ma secondo me tu perdi. Guarda qua, io già ho vinto, ragazzi. Iniziate a pensare, Nancy, che penitenza deve fare. Tutti puoi rifiutare. Non so, immaginare tutto questo. Stai perdendo. Guarda qua. Io, io già ho mangiato, penso che hai perso. Inizia a pensare cosa altro dobbiamo ordinare. Guardate, la prima è concentrata. Sto decidendo cosa altro dobbiamo ordinare. Guardate, ho mangiato tutto, pian piano ho mangiato tutto. Sì, pian piano ho mangiato tutto, sì, ti faccio la testimone. Adesso cosa ordiniamo? Quindi in bottiglia mi faccio tanto, con i lati qua, tutti quello. Ah, bene. Ah, bene. Con il gambero fritto. Io però sono decisa, forse per il salmone avocado. Ma prendere tutte e due, io prendere tutte e due. Inizierata. Ti fa uno per l'altro. Dai, ma ogni uc è bello per quello, dai. Ma prendere anche il riso col pollo. Ma sì, dai. Vogliamo. A poco le pollo. A dopo. Benvenuta la giapponesina. Ha portato questo qua ai toni. Oh, che ormai, è troppo buono, è troppo dolce. A me piace troppo stare le giapponesine. So, lì, qua c'è il gambero fritto. È troppo buono, è la guerra. Quindi adesso ci mangiamo. Wow, questa è la salsa teriyaki. Salsa teriyaki, avocado. Anche quello col salmone è buono. Dopo ci prendiamo anche quello. E' buono, eh? Eh sì. Yeah, ci mangia. Wow, come è grande. Buono, buono. Ti prendi della tua bocca. Buonissimo. Accidentate il pollo. È il pollo. Il riso col pollo. L'hai rotto tu. Sì. Ma mia, come è buono. Poi qua mettono l'osca con anche una frittatina, tipo, e le verdurine. Potrebbe evitarle, la frittatina, però. Non mi piace la frittatina, però. Te le mangia tutto. Forza, se no perdi. Guarda, andiamo alla scena di Denzi che mangia il riso con il cucchiato della portata. Non ce la mangia. Invece a dire le bacchette. Unica cosa che non riesco a mangiare con le bacchette il riso, questo qui, è che ci metto ore e ore. Non riesco così, non si mangia il resto. Perché sennò per devi la sfida, praticamente. Invece così, fregata. Invece così, fregata. In azione, ancora i miei sashimi, salmone e cecce. Tanto guardate su questo, mi sa che macchie che sono buonissime con il salmone. Le alghe. E un altro po' di alghetta. E la mia amata salsa piccante. Ti ho ancora tanto fatto. E tu, Nelzi. Anch'io. Stai quasi per perdere. Stai quasi per scoppiare. Uno, due, tre, via. Mamma mia. Molto. Io ho finito tutto. E mi riesci a schiappiare. Stai quasi morta. La faccia non ce la fai più. Ma non mi dire. Non mi dire che hai perso la sfida. Fida è un'altra. Hai perso, Nelzi. Cioè, praticamente, cosa ti manca? Questi qua. Due e uno di questi. Sono piccolini. È un pintone. Dai, mangia. Devi mangiarlo tutto. Guarda che se non lo mangi tutto ti fai la penitenza. Non fa niente. Non c'è qualcosa di... Dai, mangia. Non c'è male. Non c'è male. Mangia, mangia. Mangia, mangia. Mangia, mangia. Dai, vai. Aspetta, stiamo soccando, sovevo. Fendi fiato. Fendi fiato. Fendi fiato. Oddio. Oddio. Dai, mangia anche gli altri. No, mangia, mangia anche gli altri. Devi mangiarli. Devi mangiarli. sii se no ti vanno a prendenza decidi di perdere decidi o li mangio o perdi cosa vuoi fare? non vuoi ridere? non mi farò fare una busta per senza sii ci credi tu ragazze hai pensato una cosa cattivissima nei commenti Nelzi appena perso diteci cosa volete che farà Nelzi nel prossimo video io suggerisco dato che lei ha delle grandissime note canore di farle cantare una cazzuta dai! si viene a nevicare ad ottobre dai dai ma tu non ti senti di scoppiare ho mangiato le 70 io non ce lo faccio più io potrei mangiare ma adesso lo mangio anche tu che pazza io cerco un po' di vostri cibo vorresti pure il dolce che dici? ma che vogliamo il dolce? mazza ma devi mangiare? no il dolce ma adesso andate giapponese non lo ritengi in giro a me lo piace proprio no come? allora mo stavolta te lo mangi no pure dolce si ma questa è in atto aiuto come piove comunque siamo uscite da la una pioggia una quazzura è del diluco universale comunque Nenzi sta ancora scoppiando vi ricordo che Nenzi ha perso ancora inferire su sta cosa si dovete dire cosa come dire? può essere stato divertitato ragazzi nei commenti cosa volete che facesse spero di aver azzeccato tutti i congiuntivi nel prossimo video Nenzi e mi raccomando se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su se vi piacciono i nostri vlog pazzi esatto lasciateci tanti pollici in su così se abbiamo tanti pollici in su ne facciamo un altro vero Nenzi? sì sì a brevissimo subito lo registriamo un altro video vlog pazzo con la penitenza di Nenzi è vero Nenzi? no sono proprio curiosa ragazze dai cattive cattive le commenti non è vero sono buone ciao ciao ciao